non è per nulla facile innovare in qualunque ambito dello sport e tantomeno in quello dell'alimentazione se esistono combinazioni di cibo alcune migliori altre peggiori è anche vero che in questo momento ci si aspetta nuove innovazioni siccome il nostro canale è proprio centrato sull'innovazione e sulle novità oggi vi presentiamo un nuovo prodotto SIS Energy Bake di Science in Sport e per farlo un testimone di eccezione ecco Silvia 10 anni alle prese con queste nuove barrette energetiche Energy Bake Grazie a tutti i nostri amici Le Energy Bake sono un mix tra barrette energetiche e dei gel, una bake di 50 grammi a 190 calorie e 30 grammi di carboidrati di cui 10 di fruttosio. Hanno pochi grassi, 5 grammi e 3,5 proteine e di conseguenza sono adatte soprattutto per essere utilizzate prima dello sport e durante lo sport in particolar modo per ciclismo e corsa. Sono al gusto fragole al limone, hanno un rapporto di carboidrati 2-1 che permette una maggiore digeribilità, glucosa e fruttosio sono trasportati nel sangue in maniera diversa dall'intestino e questo facilita l'utilizzo durante la corsa. Sono adatti sicuramente per ciclisti ma anche per tutti gli atleti, se amate un prodotto sfizioso e non volete accontentarvi o volete provare qualcosa di nuovo rispetto ai soliti gel, questo è un prodotto assolutamente eccellente. Sinceramente in questo periodo per noi podisti chiaramente preferisco utilizzare un gel isotonico ma in questo caso sappiate che vi trovate di fronte a un prodotto sfizioso che vi consentirà di provare un'esperienza sensoriale unica e diversa e comunque per chi fa 4-5 ore di uscita in bici questo prodotto è assolutamente raccomandato in alternativa ai gel. Per noi podisti penso che sia uno snack sfizioso ideale, preallenamento come merenda potrebbe essere anche adatto per un lungo e in questo caso corso velocemente. A mia figlia sono piaciuti al punto tale che mi ha chiesto di fare un secondo video con la barretta alla fragola, chissà come mai. Io invece sono fedele alle proteine di Sys Wave 20 che secondo me, soprattutto a fine allenamento, sono le più adatte per noi podisti amatori. Le Energy Bakes costano 2 euro a barretta, confezioni di 12 barrette, qui sotto potete trovare un codice sconto che vi consente un piccolo sconto. Come sempre è importante essere documentati, è un'alternativa rispetto ai prodotti attualmente presenti sul mercato, vedete voi. Ad ogni modo ci vediamo alla prossima e come al solito stay strong. Ciao alla prossima! Ciao!